Grazie a tutti! Ciao Bea, come stai? Non te l'avevo vista, scusami. Bene, grazie. Guardi i miei orecchini, li ho messi i miei. Che belli che sono! Invece quando ho messo i miei orecchini, ho visto che i miei orecchini si sono rovinati tutti. Oh no, ma perché? Non lo so. Mi dispiace, siamo che accompagno io a comprarli in taglio nuovi. Davvero, grazie. Andiamo. Sì, hai ragione, sono proprio stipendi. Mi piacciono a piacere che ti piacciono. Vabbè, si è fatto tardi, io ora devo andare. Ok, ciao, ci vediamo. Ciao! Ciao ragazzi! Ehi, ciao Franci! Cosa avete comprato i miei sacchetti? Guarda che belle! Abbiamo comprato delle baglietti da Terra Nova. Sono bellissime! Wow, sono stupende! Hai visto? Ma secondo me si romperanno subito. Perché? Perché sono di bassa qualità. Ma no, guarda che carine! Secondo me dovrete comprare tipo questa. No, guarda questa. Sono molto meglio le vostre. Allora, fatti con le trucchette. Ciao! Ciao! Ciao Franci! Ciao! Grazie! Scusa ci teniamo se l'altra volta ci siamo andati noi in quel modo. Però eravamo molto di fretta, visto che avevamo tutte le maglie bucate. Però, devo spazio il tuo consiglio, ne abbiamo preso in una volta. Guarda che belle! Wow, sono bellissime! E tra l'altro, abbiamo cambiato i sacchetti, non solo piccoli di plastica, ma sono dei bei sacchetti di stoffa. Una vissime! Grazie! Ciao! Ciao, dobbiamo andare! Ciao!